piccolo robotino la città si è svegliata un'altra giornata di lavoro è iniziata anche il nostro amico Andy Andy sta lavorando guarda, eccolo fuori dal suo garage sta controllando qualcosa una nuova macchina ha davvero una macchina da corsa wow, è davvero bellissima Andy Andy, dici cos'è questo bestione che hai qui? ciao amici sì, adesso questa Ford Mustang sarà nel mio garage è una macchina da corsa con il tetto apribile è una cabriolet è una macchina molto veloce vi piace? sono davvero contento ci facciamo un giro? devo andare a fare la spesa devo comprare il cibo per la settimana andiamo voglio anche passare dal negozio di accessori per le macchine per comprare qualche nuovo accessorio per il mio Megamax fermi tutti il tram devo lasciarlo passare per primo ricorda, nella maggior parte dei casi una macchina deve far passare il tram per primo è per questo che mi sono fermato ecco il tram è passato si parte andiamo questa nuova area della città ha delle strade diverse dal solito la strada sale molto rapidamente e poi scende poco alla volta è perché c'è una montagna da queste parti ecco perché le strade sembrano delle montagne russe oh ho fame non ho fatto colazione stamattina ecco perché oh c'è un ristorante sulla strada è esattamente quello di cui avevo bisogno mi fermerò a mangiare qualcosa c'è un cantiere di fianco al ristorante un grande cantiere guarda la ruspa ha scavato un grosso buco e i costruttori stanno posando le fondamenta per un nuovo edificio interessante chissà cosa staranno costruendo forse un altro supermercato una farmacia vedremo guarda il carro attrezzi sta trasportando una macchina è molto difficile per lui trasportare una macchina così pesante su per la collina probabilmente è successo qualcosa alla jeep e il carro attrezzi la sta portando in officina per ripararla ok adesso vado a mangiare qualcosa poi mi rimetterò in viaggio da dove viene questo rumore? sembra che qualcuno sia rimasto bloccato cosa sta succedendo lì in cima? oh la ruota anteriore del carro attrezzi è incastrata nel tombino oh è un problema serio e non dimentichiamoci della jeep sono sicuro che si è agganciata bene da tutti i lati ma il carro attrezzi sta oscillando molto e può succedere di tutto come posso aiutarli? oh guarda la jeep è caduta dal carro attrezzi a quanto pare il cavo non ha retto e si è rotto oppure non era agganciato molto bene ma non abbiamo tempo di scoprirlo adesso dobbiamo fermare la jeep guarda cosa sta facendo la macchina la strada è in discesa e la jeep ha preso velocità andando a sbattere contro tutto quello che trova sulla strada qui ha abbattuto l'idrante per gli incendi adesso c'è una fontana in mezzo alla strada ha anche danneggiato molte altre macchine ho paura solo a pensarci è solo l'inizio oh amici c'è una fermata del tram con delle persone lì in fondo e la jeep si sta dirigendo proprio lì andrà contro la fermata ferirà quelle persone dobbiamo fermare la jeep costi quel che costi ma non so ancora come come posso fare guarda come sta andando giù velocemente come posso bloccarle la strada cosa faccio cosa faccio non so cosa fare la jeep travolgerà le persone ferme alla fermata aspetta un attimo mi ero quasi dimenticato del camion penso di sapere come fare posso fermare questa macchina fuori controllo il camion è carico di sabbia dobbiamo spargere la sabbia sulla strada prima che la jeep arrivi spero che questa montagna di sabbia riuscirà a fermarla ok in fretta in fretta forza camion rovescia la sabbia più in fretta non abbiamo tempo da perdere la jeep si sta avvicinando dobbiamo sbrigarci la sabbia si sta rovesciando sulla strada ce l'abbiamo fatta spero che riuscirà a fermare la macchina wow ce l'abbiamo fatta la jeep è intrappolata nella sabbia ora possiamo tirare un sospiro di sollievo osserviamo più da vicino la nostra trappola di sabbia eh già per fortuna il camion carico di sabbia era nelle vicinanze se fosse stato un po' più lontano o se non ci fosse stata abbastanza sabbia non saremmo riusciti a fermare la jeep ma per fortuna ce l'abbiamo fatta adesso dobbiamo chiamare il carroattrezzi per tirare fuori la jeep dalla sabbia e dovranno anche togliere la sabbia dalla strada l'importante è che nessuno si sia fatto male solo la mia nuova macchina è stata molto danneggiata la jeep l'è andata addosso e ha schiacciato la fiancata e il paraurti posteriore ora dovrò ripararla comunque niente di grave alla prossima amici io devo continuare il mio viaggio grazie per aver guardato il nostro cartone bimbi per favore scegli cosa puoi vedere ora abbiamo molti molti cartoni interessanti grazie per aver guardato il nostro corso